Fino al 30 aprile Palazzo Lascaris ospita la mostra Mille cartoline per un regno, rassegna tematica su Casa Savoia attraverso cartoline postali del Regno d'Italia dal 1896 al 1946. In esposizione anche lettere inedite e autografate di duchi e re di Savoia e di personaggi come Giosuè Carducci e Giuseppe Garibaldi. La mostra è promossa dal Consiglio regionale con il gruppo Amici del Passato di Volpiano in provincia di Torino. Come nasce la collezione di cartoline Sabaude sposte in mostra? La raccolta nasce più di cento anni fa ad opera del bisnonno Rolfo Giacinto che avendo un brevetto reale a Stupinigi nel 1909 questo brevetto gli consentiva di apporre lo stemma della Real Casa sull'insegna della propria ditta non avendo i soldi per comprare questa insegna raccolse e iniziò a raccogliere le cartoline dei Savoia e iniziò a metterle vicino a questo brevetto reale. Per anni tende queste cartoline che poi vennero ereditate dalla mamma e ancora oggi le raccogliamo.